Le bombe su Aleppo in Siria e i suoi effetti devastanti, armi esplosive concepite per campi di battaglia aperti che vengono però sempre di più utilizzate nelle zone urbane dei paesi in guerra. Nel mondo nel 2015 hanno ucciso o ferito 33.000 persone e il 92% delle vittime erano civili. Se la guerra deve focalizzarsi sui militari è evidente che qui abbiamo una questione che dobbiamo affrontare, dobbiamo essere in grado di ridurre al massimo gli effetti collaterali che vengono generati dall'utilizzo di queste armi. E così il direttore del Centro Internazionale per lo Sminamento Umanitario presenta uno studio che la sua fondazione ha condotto su lanciarazzi, cannoni d'artiglieria, mortai e bombe d'aviazione, oggetti spaventosi che per i militari sono chiaramente più facili da usare in campo aperto che non vicino alle case della gente. Ad esempio i lanciarazzi, un sistema lanciarazzi che noi abbiamo studiato, se viene utilizzato alla sua massima portata, ha un impatto su una superficie equivalente a quasi 30 campi da calcio. Quindi ci si può immaginare come sia impossibile in queste condizioni colpire un bersaglio preciso. Limitare al massimo l'effetto delle armi sulle persone è la sfida quotidiana dell'ambasciatore Stefano Toscano. Come tutti noi, egli vorrebbe un mondo senza guerre, ma visto che è illusorio, il suo lavoro è quello di renderle perlomeno più leali. Io nel corso della mia carriera sono sempre stato legato a temi vicino al disarmo. Sono temi che mi hanno sempre interessato moltissimo perché trovo hanno un impatto immediato se si riesce ad avanzare verso il disarmo sul benessere della popolazione civile.